Un giorno di profonda tristezza nella Basilica di San Lorenzo a Roma, la chiesa è gremita per fare omaggio a Maria Sensi, una donna che ha lasciato il segno nella storia del calcio. La moglie di Franco Sensi, ex presidente della Roma, è scomparsa il 14 settembre all'età di 75 anni. La figlia Rossella ha voluto ricordare sua madre con queste parole. Ci ha dato grandi valori, amava la famiglia, era una tifosa della Roma, un'appassionata. L'unica consolazione è che si avvicina al suo amato Franco. Presenti, oltre la figlia Rossella, molti tifosi della Roma e diverse figure del mondo dello sport. Per la prima volta da anni, i dirigenti del vecchio e del nuovo club giallorosso si sono trovati fianco a fianco. Non poteva di certo mancare all'appello Francesco Totti, accolto un grande affetto dai fan romanisti. Anche il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha voluto mostrare la sua riconoscenza verso la famiglia Sensi. Ho apprezzato il fatto che la famiglia Sensi ha impiegato risorse, capitali per la grandezza della Roma. Grazie. 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 Grazie.